E' ritenuto colui che venerdì scorso ha fatto esplodere un potente petardo davanti all'ufficio centrale delle poste di via Monte Oliveto a Napoli. Si tratta di un 32enne già noto alle forze dell'ordine identificato attraverso una rapida indagine dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli centro. Ai militari che lo hanno rintracciato nella sua abitazione ha riferito di aver compiuto il gesto per festeggiare l'imminente partenza di un amico per l'estero. Le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti. La casa dove vive è stata perquisita e sono stati trovati 40 piccoli ordini e un kit per costruirne di nuovi micce, involucri e polvere nera. Tutto è finito sotto sequestro. Il 32enne è stato denunciato.